aggiunta l'altezza giusta per ricoprire fino alla spalla dallo scalfo nel mio caso 1 2 3 4 volte il motivo adesso sganciamo il filo e andiamo a posizionare il marca punto nel centro del nostro lavoro se avete lavorato come me con un numero dispari di motivi sulla parte frontale e un numero dispari sulla parte posteriore il fiore centrale nel mio caso 5 a destra 5 a sinistra quello centrale lo lascio libero e farò la scollatura a b andando a realizzare sempre delle diminuzioni sul lato esterno sia sulla destra che sulla sinistra quindi ho posizionato il marker lasciando libero il fiore centrale ne ho 1 2 3 4 e 5 a sinistra 1 2 3 4 e 5 a destra il fiore centrale lo lascerò libero e farò la scollatura ho agganciato il filo sul punto del marker quindi sul petalo del primo fiore che voglio lavorare e adesso lavoro un petalo soltanto 1 2 3 4 5 catenelle più 1 2 3 del picotto nella terza rientro lavoro un pippiolino 1 2 3 4 e 5 un punto basso nello stesso punto anziché lavorare il doppio petalo nel lavoro uno soltanto 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 nel petalo successivo nella maglia bassa un punto basso 1 2 3 4 e 5 più 1 2 3 catenelle un punto basso anzi bassissimo 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 al centro fra i due petali un punto basso come abbiamo sempre fatto fino ad ora 1 2 3 4 5 1 2 3 un picotto 1 2 3 4 e 5 sulla maglia bassa del secondo petalo un punto basso e adesso lavoro il motivo fino alla parte laterale dove ho separato per realizzare gli scarfi sono sull'ultimo petalo della riga quindi lavoro 1 2 3 4 5 catenelle 1 2 3 4 volte il filo nello stesso punto basso rientro e lavora una maglia alta chiusa cinque volte quindi 1 2 3 4 e 5 volto il lavoro e realizzo il picotto 1 2 3 4 e 5 lavoro questo petalo solo a metà così come ho fatto all'inizio come ho fatto poi anche per la parte della schiena che poi verranno uniti con la manica adesso lavoro il motivo normalmente da destra verso sinistra per come sempre è stato lavorato quindi nel pippiolino seguente un punto basso 1 2 3 4 5 catenelle e mi aggancio nel petalo seguente con un punto basso prendo il petalo successivo un punto basso 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 nel petalo successivo nel pippiolino il punto basso un punto basso nel petalo seguente 1 2 3 4 e 5 un punto basso nel petalo successivo fino alla fine del lato io comunque ci sono sono quasi al termine del della riga quindi facciamolo insieme un punto basso nel pippiolino successivo 1 2 3 4 e 5 un punto basso nell'altro petalo e un punto basso nel primo petalo della lavorazione perché sono sul primo petalo dove ho iniziato il giro quindi dove ho iniziato il lavoro il marca punto ok adesso voltiamo il lavoro adesso faremo un ulteriore diminuzione perché il primo giro lo abbiamo lavorato normalmente su questo giro anziché lavorare due petali all'inizio ne lavoriamo solamente uno quindi entriamo con una maglia bassissima nel petalo successivo e adesso cominciamo con una due tre quattro cinque catenelle 1 2 e 3 nella prima delle tre un punto bassissimo 1 2 3 4 e 5 un punto basso nel punto basso e continuo a lavorare il motivo fino ad arrivare alla parte laterale quando arrivo quanzi che lavorare un petalo solo nel lavoro due come ho fatto anche per la parte della schiena quindi qui lo portiamo su a dritto sviluppando il motivo normalmente la diminuzione la facciamo solo sulle parti qua frontali quindi qua stiamo andando a diminuire ci vediamo alla fine del lato ho terminato anche questa riga sono alla fine del lavoro lavorato i miei ultimi due petali adesso comincio normalmente con 1 2 3 4 5 catenelle un punto bassissimo un punto basso scusatemi nel pippiolino un punto basso nel petalo successivo e le lavoro tutti normalmente fino ad arrivare alla fine della riga ho terminato quindi ho preso il mio ultimo petalo ho lavorato il punto basso adesso voltiamo il lavoro e ripetiamo una diminuzione quindi questo petalo non lo lavoreremo una maglia bassissima al centro una maglia bassissima sopra il petalo successivo e lavoriamo solo mezzo fiore quindi una due 3 4 5 1 2 3 nella terza delle 3 1 2 3 4 e 5 lavoro il mio primo petalo del lato nel lavoro solo uno per continuare la diminuzione dello scollo a b 5 catenelle 1 2 3 4 5 e adesso vado nel petalo successivo e lavoro il motivo fino alla fine del lato ho terminato ho terminato la riga ho lavorato un solo petalo volto il lavoro e adesso comincio con la lavorazione del punto normalmente fino a ritornare sulla parte centrale dove faccio lo scollo quindi punto basso 1 2 3 4 5 catenelle nel petalo successivo un punto basso nel picotto e così via fino a lavorarli tutti quindi vado a lavorare tutti i petali ad unirli ho terminato anche questo giro volte il lavoro vado a ripetere una diminuzione quindi lavoro una maglia bassissima sul secondo petalo del motivo sottostante e lavoro un solo petalo 2 3 4 5 1 2 3 un punto bassissimo 1 2 3 4 e 5 lavoro un solo petalo ok adesso lavoro il motivo fino alla fine del lato vedete siamo io in questo caso sto lavorando tre fiori ho terminato di lavorare anche questo giro gli ultimi due petali sull'ultimo punto adesso volto il lavoro in questo giro qua per me è l'ultimo io ho già replicato quattro volte il motivo devo andare ad unirmi anche la parte della schiena per tutti i miei punti quindi se vogliamo li possiamo sovrapporre dobbiamo agganciare esattamente questo pippiolino con questo ultimo punto qua poi andiamo a lavorare le nostre 5 catenelle e ad unire questo questo petalo su questi petali qua sottostanti 5 catenelle e ci uniamo questo e questo petalo su questo punto qua 5 catenelle quindi questo è il mio ultimo punto da lavorare e metto un marca punto nella parte della schiena vediamo come si agganciano ok ho lavorato il mio picotto questa è la chiusura del lavoro prendo l'altro lato subito e aggancio i due lati con un punto bassissimo adesso lavoro le 5 catenelle 2 3 4 e 5 prendo il petalo sulla parte frontale questo entro nel picotte lavoro un punto basso adesso devo agganciarmi al punto basso dell'altro lato quindi entro nel punto basso sull'altro lato e lavoro un punto bassissimo prendo il petalo successivo dove devo continuare la la lavorazione che è questo qua lavoro il mio punto basso e lavoro un punto bassissimo nel punto basso dell'altro petalo sulla parte della schiena li vado ad agganciare 1 2 3 4 5 proseguo nel petalo successivo entro e lavoro un punto basso e mi aggancio il punto basso sul primo punto basso che ho sull'altro lato con un punto bassissimo prendo l'altro petalo lo aggancio con un punto basso e aggancio il punto basso con un punto bassissimo sulla schiena 1 2 3 4 5 catenelle prendo il petalo lavoro il punto basso normalmente lo aggancio prendo l'altro petalo e lavoro il punto basso adesso aggancio il punto basso con un punto bassissimo sull'ultimo punto che devo agganciare ok terminato di agganciare la prima spalla ecco qua in questo modo non facciamo altro che andare a replicare il punto quindi li agganciamo normalmente per come si presenta al lavoro fino all'ultimo punto che dobbiamo unire tagliamo il filo ci agganciamo sull'altro marker e ripetiamo le stesse diminuzioni nello stesso modo lavorando sempre solo un petalo sulla parte esterna e andando su a dritto sulla parte della dello sbraccio lavoriamo li agganciamo nello stesso modo e poi ci vediamo per lavorare la manica quindi taglio il filo facciamo il primo punto insieme se volete poi questo quando dobbiamo riprendere ok agganciamoci sul marker questo punto qua proprio non sul petalo centrale ma sul primo petalo dove ho il marca punto mi aggancio lavoro una catenella una maglia bassa volto subito il lavoro e comincio con la lavorazione di un solo petalo quindi 1 2 3 4 5 1 2 3 1 picot 1 2 3 4 5 e un punto passo ora lavoro il motivo fino allo scalfo quindi fino allo sbraccio esattamente questo è la lavorazione dell'altro lato quindi vado esattamente su questo petalo qua e termino il giro il lato alla fine del lato lavoro un solo petalo perché l'altro cielo già lavorato qua dove ho agganciato il lavoro volto il lavoro termine il mio picot con un punto bassissimo adesso lavoro il punto normalmente quindi aggancio subito l'altro petalo con un punto basso 1 2 3 4 e 5 lavoro il mio giro fino ad agganciarmi tutti i miei petali ci vediamo sull'ultimo punto facciamo insieme anche l'altro giro e poi è una ripetizione di quello che vi ho appena mostrato per la parte dell'altro lato terminato agganciato gli ultimi due petali con punto basso punto basso volto il lavoro e faccio un'altra diminuzione una maglia bassissima nel petalo successivo 5 catenelle 2 3 4 5 1 2 3 punto bassissimo 1 2 3 4 5 con punto basso nel petalo e ne lavoro solo 1 1 2 3 4 5 nel primo petalo che incontro sulla seguendo la riga un punto basso e qua lavoro i miei due petali fino a terminare anche questa riga sull'ultimo petalo nel lavoro due torno indietro faccio un'altra diminuzione quindi vado ad agganciarmi tutti i petali su questo petalo qua lavorerò un solo petalo quindi continuiamo e ci vediamo agganciata anche questo a spalla per lavorare le maniche per lavorare la manica prendiamo il nostro scalfo quindi qua abbiamo il nostro la nostra parte laterale sotto al braccio dove abbiamo diviso il lavoro per realizzare gli scalfi ci agganciamo su questo petalo qua lavoriamo un punto basso per agganciare lavoro più 5 catenelle 2 3 4 5 1 2 3 un pippiolino e 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 rientriamo nel punto basso e lavoriamo un petalo quindi in mezzo fiore l'altra metà lo lavoriamo alla fine del giro perché adesso lavoreremo a cerchio 2 3 4 e 5 qua abbiamo le nostre cinque catenelle il picotto dove abbiamo il punto basso nel picotto la regoliamo il punto basso 1 2 3 4 5 1 2 3 un punto bassissimo 1 2 3 4 5 un altro punto basso 1 2 3 4 5 1 2 3 e lavoriamo due petali completi qua abbiamo il punto basso il petalo dove abbiamo il punto basso sempre sullo stesso giro un punto basso nello stesso punto e lavoriamo i nostri due petali nello stesso punto basso 5 catenelle 1 2 3 4 5 qui abbiamo le 5 catenelle del petalo il pippiolino nel pippiolino un punto basso e ripetiamo il nostro petalo 3 4 5 1 2 3 continuiamo fino alla fine del giro l'ultimo petalo lo lavoriamo insieme perché riprenderemo il lavoro a circonferenza quindi ci vediamo per lavorare insieme l'ultimo petalo alla fine del giro sono alla fine del giro lavorando il mio ultimo gruppo di due petali 5 catenelle qual il primo petalo di inizio lavoro che a questo questo qua nel petalo precedente che a questo alla fine del giro entro e lavoro il punto basso una due tre quattro cinque catenelle 1 2 3 4 volte il filo nello stesso punto rientro e lavoro una maglia alta uscendo da quattro punti due tre quattro chiudo una due tre catenelle è un pippiolino quindi un punto bassissimo e ho terminato il primo giro adesso vado subito a lavorare il secondo giro da qua da in alto andandolo a lavorare per come si presenta quindi una due tre quattro cinque catenelle nel picote successivo un punto basso prendo il petalo seguente e lavoro il punto basso direttamente una due tre quattro e cinque un punto basso nell'altro pippiolino prendo l'altro petalo e così via fino alla fine del giro quindi adesso riprendiamo la lavorazione a circonferenza lavoro le maniche poi vedrò quanti giri ho lavorato e la lunghezza che ho raggiunto terminato di lavorare la manica a lunghezza sono andata a realizzare uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci volte il motivo quindi per me come avete visto le misure nell'anticipazione è sufficiente ho già messo in posa la manica quindi ho acquistato anche un paio di centimetri lunghezza e ho rifinito con due giri di maglie basse quindi sull'ultimo giro a catenelle ho ripreso dentro le 5 catenelle 5 maglie basse sul punto basso un punto basso sul punto basso un punto basso quindi sette totali per tutto il giro per due volte adesso realizziamo il cappuccio per lavorare il cappuccio posizioniamo il nostro lavoro con lo scollo rivolto verso il basso andiamo a prendere la spalla qua abbiamo il primo fiore vedete questo qua noi ci agganciamo per realizzare il cappuccio sul primo punto qui dove abbiamo la prima maglia bassa entriamo e agganciamo il filo adesso andiamo a riprendere il motivo anche tutto lungo il bordo della schiena con lo stesso punto cominciamo lavorando una due tre quattro cinque più una due tre nella prima delle tre il picot 1 2 3 4 e 5 abbiamo lavorato il primo petalo lo stesso punto basso di inizio lavoro un punto basso questo è l'inizio del nostro cappuccio adesso 5 catenelle 1 2 3 4 5 dove abbiamo il corrispettivo punto basso qua dell'altro lato entriamo facciamo il punto basso 1 2 3 4 5 catenelle 1 2 3 e la prima delle tre il pippiolino 1 2 3 4 5 qua abbiamo il centro praticamente del petalo qui dove abbiamo la cucitura della spalla entriamo lavoriamo il punto basso e ripetiamo un altro petalo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 e 5 nel punto basso dopo l'unione del della spalla quindi abbiamo un punto basso nel successivo il punto basso 1 2 3 4 5 siamo sullo scollo andiamo nel punto basso seguente e ripetiamo un punto basso 1 2 3 4 5 lavoriamo tutti i nostri petali nello stesso modo fino all'altro lato dove abbiamo poi la parte frontale quindi arriviamo alla fine della scollatura nella parte posteriore sono sull'altro lato quindi alla fine della spalla lavoro un petalo sulla parte della schiena e come fatto dall'altra parte punto basso 2 3 4 5 catenelle un picotto un 3 catenelle punto bassissimo 1 2 3 4 5 catenelle adesso mi sposto sullo scollo nel punto basso successivo all'unione della spalla quindi qua ho l'unione dei motivi mi aggancio sul primo punto basso successivo una due tre quattro cinque nel punto basso successivo questo qua entro e lavoro punto basso e realizzo un mezzo petalo quindi una due tre quattro cinque una due tre rientro il picotto uno due tre quattro volte il filo nello stesso punto basso entro e lavoro una maglia alta quinto quindi esco da cinque volte dalla maglia e ho realizzato solo mezzo fiore adesso voltiamo un lavoro e andiamo a lavorare il punto seguente normalmente come abbiamo fatto per avanti e indietro per tutto il progetto quindi lavoriamo adesso direttamente da dove siamo un punto basso nel petalo successivo entriamo punto basso una due tre quattro cinque nel petalo successivo un punto basso un punto basso nel petalo seguente fino a congiungerci di nuovo con l'altro lato e adesso lavoriamo la circonferenza praticamente qua dello scollo per andare a realizzare il cappuccio quando arrivo sull'altro lato chiudo il punto lavoro il mio primo petalo sul punto di chiusura e poi lavoro anche il secondo quindi attenzione alternati sui non giri dispari lavoreremo un solo petalo sui giri pari due petali perché comunque non dobbiamo fare diminuzioni quindi una due tre quattro e cinque 3 catenelle il picotto una due tre quattro e cinque e nel punto basso successivo lavoro il secondo punto basso quindi quando arrivo alla fine del primo giro chiudo il giro con la maglia bassa unendo i due petali poi lavoro un petalo sul primo petalo un petalo sul secondo petalo cinque catenelle una due tre quattro e cinque e procedo ho appena terminato di lavorare in altezza il cappuccio sono sufficienti visto che comunque è un cappuccio che chiaramente tutto così traforato non è che più che altro è figurativo quindi saranno sufficienti uno due tre quattro cinque sei volte il punto con i petali adesso prima di chiudere andiamo a realizzare sui bordi prima un lato e poi l'altro lato un motivo completo in modo da allargare e poi andare a cucire insieme le parti piegandolo in questo modo però abbiamo bisogno prima di aumentare la parte laterale questo è l'ultimo punto che ho lavorato per l'altezza mi volto in questo modo in modo da lavorare la parte laterale comincio subito con le cinque catenelle 2 3 4 5 1 2 3 e realizzo il picotto di 3 catenelle 1 2 3 4 e 5 nella stessa maglia iniziale entro lavoro la maglia bassa e di nuovo 1 2 3 4 e 5 1 2 e 3 catenelle è un punto bassissima e realizzo il secondo punto nella stessa maglia bassa una maglia bassa 1 2 3 4 e 5 catenelle vado nel punto basso seguente dove ho alla fine del petalo entro e lavoro punto basso 1 2 3 4 5 più 3 catenelle e continuo a lavorare il mio motivo vediamo insieme l'ultimo punto quando arrivo al punto di inizio dove ho la codina del lavoro quindi lo riconosco lavoro le cinque catenelle 4 e 5 1 4 e 5 1 2 3 4 volte il filo rientro nello stesso punto e lavoro la mia maglia altissima uscendo da cinque punti 1 2 3 catenelle volto il lavoro adesso realizzo il picotto con un punto bassissimo e vado subito ad agganciare l'ultimo punto lavorato con quello sul precedente entro nel picotte lavoro il punto basso una due tre quattro e cinque e lavoro un punto basso nel punto nel picotto successivo in modo da fare questa leggerissima lavorazione verso l'alto quindi in diagonale seguendo il punto adesso arrivo all'inizio del lato una volta fatto questo sgancio il filo e replico per l'altra parte ho lavorato entrambe le parti video alla misura sono come altezza poi comunque un po c'è del lavoro perché poi lo passeremo a vapore a circa 28 cm all'incirca per una larghezza di circa 40 cm adesso dobbiamo uscire il nostro cappuccio andremo ad unire le punte io sono sul dritto del lavoro posizioniamoci sul dritto in questo modo prendiamo le due estremità senza tagliare il filo perché comunque adesso lo useremo per agganciare i due lati questo lavoro anziché piegarlo sul dritto lo pieghiamo sull'altro lato così facciamo combasciare le due estremità e tiriamo qua alla punta faremo una cucitura sul rovescio del lavoro prendiamo pure un un marker e andiamo ad unire l'ultimo punto che dobbiamo agganciare quindi vediamo perfettamente questo è il punto una volta piegato l'ultimo punto che agganceremo poi agganceremo le catenelle chiaramente quindi mettiamo un marca punto adesso da dove siamo con lo stesso filo del lavoro senza necessariamente sganciarlo andiamo a realizzare la cucitura questo è l'ultimo punto che ho lavorato ho la mia maglia di chiusura del giro prendo la punta dell'altra parte entro lavoro 2 catenelle facciamolo con le catenelle più comodo perché abbiamo tante maglie da agganciare entriamo nell'altro lato e lavoriamo una maglia bassissima una due catenelle qua abbiamo le nostre cinque catenelle del punto una due nella terza una maglia bass bassa una due catenelle torniamo sull'altro lato dove abbiamo le cinque catenelle nella terza una maglia bassa una e due catenelle andiamo nel punto basso seguente una maglia bassa una e due catenelle nel punto basso dell'altro lato una maglia bassa ci andiamo ad agganciare il nostro lavoro con delle catenelle giusto per non andare proprio a fare una cucitura troppo fitta arriviamo fino alla fine del lato quindi sempre in questo modo un punto basso una terza catenella un punto basso nella maglia bassa alternandolo con due catenelle arriviamo alla fine e poi riprenderemo tutto il bordo adesso prendiamo la lavorazione tagliamo il filo innanzitutto perché qua siamo comunque sul sull'interno quindi sul rovescio possiamo tagliare il filo e posizionarci sul dritto chiediamo il nodino adesso portiamo il nostro cappuccio sul dritto quindi la punta la spingiamo verso all'interno e questa è la semplicissima cucitura che andremo a realizzare con queste catenelle in modo da non chiudere troppo fitto il nostro il nostro cappuccio ok adesso che cosa facciamo ci agganciamo al centro dello scollo esattamente sul motivo che abbiamo lasciato libero quindi io mi vado ad agganciare nella terza catenella che è quella proprio centrale aggancio il filo e comincia a lavorare dentro ad ogni punto una maglia bassa e vado a lavorare un giro di maglie basse e poi eventualmente a ripeterne un ulteriore quindi uno o due giri a maglie basse l'unica cosa che io farò con attenzione andare a lavorare le maglie dentro alle catenelle e non nella catenella quindi vado a prendere proprio la maglia all'interno perché mi piace di più la lavorazione vado a bordare in questo modo tutto il lato tutto il cappuccio tutto il lato l'altro lato del cappuccio fino a ricongiungermi di nuovo con lo scollo valuto se ripetere un giro maglie basse come ho terminato di riprendere la bordatura dello scollo ho realizzato un solo giro di maglie basse però è possibile anche riprenderlo con un secondo giro fare anche un giro di maglie alte questo a gusto vostro in base alla rifinitura che volete dare al cappuccio adesso passiamo al vapore quindi stendiamo un asciugamano in cotone anche se avete lavorato un altro filato ora per la microfibra ve lo sconsiglio ma se avete lavorato un filato in cotone o un acrilico è possibile mettere al di sopra un asciugamano e passare la maglia al vapore proprio per dare la giusta dimensione e la forma al nostro lavoro perché abbiamo lavorato delle maglie altissime in modo da andare a distenderlo un po questo è il progetto terminato io spero che vi piaccia fatemi sapere che cosa ne pensate e vi aspetto sul mio canale per il prossimo video ciao a tutte a presto a presto